buongiorno a tutti e a tutti benvenuti a questo nuovo episodio dei podcast di progressiva vi ricordo che eh progressiva è una think tank europea indipendente che vuole contribuire alla creazione di un'agenda progressista eh comune a tutte le forze politiche a livello europeo se vi interessa il nostro progetto politico potete eh iscrivervi alla nostra newsletter eh che trovate sul sito www.progressivamagazine.com e seguirci sui nostri canali social vi ricordo anche che appunto progressiva è un progetto indipendente quindi funziona grazie al lavoro di eh tutti i suoi volontari e vi invitiamo se potete a lasciare una donazione sul nostro sito. Oggi eh siamo qui per eh parlare di eh un argomento molto caldo in quest'ultimo periodo è ovviamente l'argomento del momento cioè le prossime elezioni politiche che si terranno in Italia il prossimo venticinque settembre però il focus è particolarmente eh sui seggi elettorali esteri si tratta infatti di un argomento poco trattato e di cui difficilmente in Italia purtroppo si intuisce ancora l'importanza quindi innanzitutto partirei con lo spiegarvi brevemente come funziona. Allora all'estero dopo la riforma costituzionale che ha previsto il taglio dei eh parlamentari verranno eletti otto deputati e quattro senatori essi verranno eletti in quattro circoscrizioni diverse. La prima circoscrizione è l'Europa, la seconda è l'America settentrionale centrale, la terza è eh l'America meridionale e la quarta è l'Africa, Asia, Oceania, Antartide. Come funziona? Tutti i cittadini maggiorenni che siano iscritti all'Aire tra il cinque e il dieci settembre duemilaventidue riceveranno dal proprio consolato di riferimento le schede elettorali, una per la Camera dei Deputati e una per la per il Senato della Repubblica che dovranno essere compilate e successivamente spedite via posta al consolato. Nella scheda si dovrà tracciare una eh croce sul simbolo del partito che si intende votare e eh se si gradisce accanto al simbolo del partito si potrà anche indicare la propria preferenza. Sarà una preferenza per quanto riguarda il Senato e mentre invece per quanto riguarda la Camera dei Diputati le preferenze possono essere una o due a seconda della circoscrizione. Oggi ci concentriamo anche alla luce dei nostri ospiti che adesso mi accingo a presentarvi sulle ehm circoscrizioni Europa e America settentrionale e centrale le preferenze esprimibili alla Camera sono due. Quindi abbiamo detto che eh appunto il numero dei parlamentari in seguito alla riforma eh recente e costituzionale è stato ridotto. In precedenza i eh parlamentari nelle circoscrizioni estere che venivano eletti erano diciotto. Ora ehm tuttavia eh appunto eh sono diminuiti. A nostro avviso questa eh questa maggiore importanza ehm influisce comunque giustamente sui cambiamenti che stanno avvenendo. Innanzitutto la sempre maggiore integrazione a livello europeo e globale per cui si può ormai eh parlare di una cittadinanza transnazionale. Sempre più cittadini italiani infatti si trovano a vivere almeno periodi della vita o periodi dell'anno in altri paesi in Europa o al di fuori dell'Europa. In secondo luogo e questo secondo noi è un punto fondamentale in un paese che comunque pone i propri giovani nelle condizioni quasi di scappare all'estero perché l'estero sia l'Europa che appunto gli Stati Uniti o comunque eh altre realtà offrono maggiori opportunità sia dal punto di vista dello studio che dal punto di vista delle opportunità lavorative. Quindi questo ovviamente è un dato positivo, sarebbe un dato positivo se poi questa migrazione verso l'estero fosse ehm corrispondesse comunque o un rientro dei cervelli dopo queste esperienze o comunque un corrispondente flusso migratorio italiano da parte degli altri paesi. Così tuttavia non è. Quindi l'Italia si trova sostanzialmente spopolata eh delle sue risorse principali. quindi secondo noi diventa un punto fondamentale eh il tema di come questi cittadini italiani spesso giovani possono ancora contribuire allo sviluppo del proprio paese non trovandosi più nel loro territorio. Per parlare con noi oggi abbiamo tre ospiti come vi anticipavo tutti i candidati per il Parlamento italiano nelle circoscrizioni estere. Il primo non ha eh bisogno di presentazioni è il professore Andrea Crisanti. Buonasera professore. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Appunto dicevo Andrea Crisanti è noto virologo di fama internazionale, membro del partito democratico di Londra e eh capolista per il senato della Repubblica nel partito del partito democratico alla circoscrizione Europa. Siamo stati abituati a vederlo molto spesso in televisione sui giornali a causa della pandemia da covid-19 che ha cambiato il mondo negli ultimi anni e nel nel marasma che ha provocato questa pandemia mi permetto di dire che il professor Crisanti è stato un faro che spesso ha illuminato la via tanti ma è compresa che ho vissuto con ansia eh sia il prima che il durante e che anche adesso che sembra un po' affievolita la la pandemia quindi vorrei ringraziarla anche per essere stato la la nostra guida professore. La ringrazio tantissimo. A discutere con noi abbiamo anche Federico Quadrelli candidato invece per la Camera dei Deputati sempre nella circoscrizione Europa già segretario del partito democratico di Berlino e di Brandeburgo presidente del partito democratico di Germania e membro dell'Assemblea nazionale del partito democratico. Buonasera Federico. Buonasera grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi questa sera. Abbiamo infine il piacere di avere con noi anche Gianluca Galletto candidato alla Camera circoscrizione America settentrionale e centrale e membro del partito democratico di New York. ha anche ha raggiunto livelli di vertice nell'amministrazione della municipalità di New York dove è stato managing director per la partnership tecnologiche innovative del gabinetto del presidente e CEO della New York City Housing Authority il più grande sistema di case popolari in occidente. Buonasera Gianluca grazie anche a lei di essere qui con noi. Speriamo che il fuso orario non le abbia reso particolarmente stiamo dalla partecipazione. Va benissimo. Grazie ancora. Allora partirei dal chiedere a ognuno di voi magari appunto seguendo quest'ordine di presentarsi e parlare brevemente appunto della vostra esperienza professionale e di cosa vi ha spinto a impegnarvi in politica quindi appunto se vuole partire il professor Trisanti intanto e poi a seguire Federico Quadragli e poi Gianluca Galletto. Ma guardi inizio subito con la mia esperienza professionale sebbene debba dire voglio aggiungere una cosa che questa candidatura si ricollega anche a una mia esperienza familiare nel quanto mio zio migrato in America negli anni cinquanta e insomma anche grazie ai contributi che mio zio mandava a mia madre ho potuto studiare diciamo quindi senza questa contributo sarei quello che sono diventato insomma e quindi anche ricordo sempre l'invito che mi faceva in insegnamento a studiare e impegnarmi quindi per me è stato un motivo di orgoglio e di esperienza familiare anche questa mia candidatura. Per quello che riguarda poi la mia vita professionale chiaramente inizia con la laurea in medicina e inizia anche con una grandissima frustrazione perché sebbene sia stato uno dei migliori studenti della sapienza non ho vinto nessun concorso di specializzazione perché non ero raccomandato perché mia madre faceva l'impiegata si può figurarsi e quindi non avevo i geni giusti per entrare all'università e quindi ho spedito una lettera anzi no guardi ho spedito tantissime lettere lei pensi in assenza di internet spedì quasi centocinquanta lettere a tutte le università americane e venni presso alle scuole di specializzazione di tantissime università poi mia moglie non voleva andare in America e allora non mi sono scoraggiato e ho spedito una lettera a un ricercatore che tra le altre cose anche ha vinto il premio Nobel per la medicina e questa persona mi ha preso e quindi da lì ho iniziato la mia carriera scientifica dopo aver fatto il militare e quindi sono stato 30 anni all'estero praticamente iniziando con la Svizzera passando per la Germania ad Heidelberg e poi a Londra dove sono stato circa 25 anni è stato devo dire la verità mi sento un privilegiato ho fatto un percorso scientifico straordinario ho conosciuto tantissime persone tantissimi italiani tantissimi giovani ragazzi che sono venuti nel mio laboratorio a studiare nel mio laboratorio a fare ricerca sono orgoglioso che molti di loro oggi occupano posizioni importantissime in varie università italiane e straniere poco prima della pandemia ho chiesto di fare un sabbatico in Italia perché poi per me è sempre stata una passione quella di cercare di restituire all'Italia in qualche modo quello che dall'Italia ho avuto cioè l'educazione ho iniziato questo sabbatico a Padova e pochi mesi dopo il sabbatico è scoppiata l'epidemia è scoppiata l'epidemia nel frattempo il capo del dipartimento era andato in pensione era andato in pensione anche il direttore della microbiologia e quindi mi hanno chiesto in qualche modo di dare una mano e quindi qui è così è iniziata il mio impegno in questo settore devo dire che senza l'esperienza che avevo accumulato in tutti questi anni mai avrei potuto dare quel contributo che ho dato quindi grazie anche a tutte le cose che ho imparato e questo mi permette anche di fare una riflessione sugli italiani che stanno all'estero io ho imparato da loro, dai primi italiani, il valore della solidarietà in una situazione difficile e questo è un tesoro che porto con me come esperienza personale gli italiani all'estero adesso sono cambiati sono depositari di un tesoro di conoscenze scientifiche, tecnologiche, manageriali di intraprendenza e di esperienze sociali ecco a mio avviso è importante che questo tesoro ritorni in Italia e che aiuti a cambiare l'Italia e faccia un posto migliore di quello che abbiamo lasciato grazie professore, grazie per il suo intervento e passerei appunto la parola a Federico Quavrelli sì, buonasera, spero che mi si senta bene fare una presentazione dopo il professore Andrea Crisanti è un po' complicato però ci si prova il mio è un curriculum un po' più snello anche per una questione diciamo anagrafica io non vengo dal mondo della scienza hard diciamo così quella delle scienze naturali ma dalla sociologia e dalle scienze politiche ho studiato a Milano vengo da un piccolissimo paese di montagna 150 anime in Versilia vicino a Sant'Anna di Stazzema quindi diciamo che ho un background familiare e anche sociale abbastanza orientato politicamente in una certa direzione diciamo sono cresciuto con determinati valori come diceva anche Andrea Crisanti la solidarietà che poi è quello che abbiamo appreso anche nella nostra comunità di italiani all'estero ma per me è già qualcosa che nasce da prima con le testimonianze di chi ha sopravvissuto alla seconda guerra mondiale io ho la fortuna di avere una nonna molto anziana che ha 94 anni che ha avuto invece la sfortuna di vivere qualcosa che è difficile da spiegare quindi la ricchezza delle testimonianze che lei mi ha sempre dato rispetto a quell'esperienza e l'invito a non dare mai nulla per scontato e a impegnarmi perché veramente da un giorno all'altro può capitare che si perda quello che si ha insomma mi ha motivato sempre molto a fare a sfidare un po' anche me stesso io vengo da una famiglia economicamente con ristrette possibilità quindi ho potuto studiare in Italia grazie a un sistema di borse di studio altrimenti non avrei potuto sostenere quel tipo di esperienza dopo la laurea in sociologia la condizione però lavorativa in Italia era non drammatica di più e quindi tra le varie opzioni che c'erano ho deciso di investire su me stessa e sono andato a Berlino dove l'idea era di studiare di nuovo quindi fare un dottorato però arrivare in un paese dove non conosci bene la lingua nel senso il tedesco non lo conoscevo per nulla significava qualcosa di diverso quindi ho dovuto reinventarmi quindi il nuovo capitolo ho lavorato come ho sempre fatto perché ho sempre lavorato e studiato più disparati ruoli per potermi insomma mantenere poi ho deciso che dovevo studiare la lingua tedesca quindi ho lasciato il lavoro che avevo un lavoro sicuro mi sono messo a studiare sono tornato all'università ho fatto una seconda laurea in tedesco in studi politici e ho iniziato un dottorato di ricerca in sociologia politica sul tema del populismo di destra e i giovani in Italia e in Germania quindi direi questo è un po' anche un legame molto stretto con la mia attività di politico perché non ho mai disgiunto diciamo la mia biografia personale da quella politica sono un dirigente locale dell'Espede quindi ho fatto una doppia militanza PD ed Espede io scherzando a volte ho detto anche doppio mal di pancia a volte però è veramente così ma anche doppie soddisfazioni specie quando hai a che fare con ragazzi che vedendo una persona comunque più o meno della loro età si sentono motivati a partecipare e Berlino in questo aiuta perché è una città molto dinamica molto giovane però ci tengo a sottolineare e concludo che uno del motivo per cui poi ho deciso di impegnarmi e ha accettato anche la candidatura in questo senso è proprio per dare una voce a una generazione che diciamo una voce non l'ha mai avuta in politica per la miopia di certi politici e questo però non deve significare che non mi metta in relazione all'esigenza e alle necessità di altre generazioni tutt'altra significa costruire ponti fra questi mondi fra queste esperienze e come diceva anche Andrea Crisanti adesso quello che si vive nell'esperienza di italiani all'estero con le difficoltà le opportunità sono esperienze talmente importanti che siamo di per sé un 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 posso come posso dire eh qualcosa di strategico per il paese e quindi il paese deve capire che italiani all'estero sono una risorsa enorme inestimabile non sono un tifoso della retorica dei cervelli in fuga ma non ne parliamo stasera magari ne parliamo un'altra volta ma della circolarità dei talenti creare la possibilità che le persone secondo le proprie eh condizioni le proprie aspirazioni possano decidere di andare tornare andare altrove e circolare cosa che fa molto bene non solo la ricerca chi fa ricerca anche eh in ambito sociologico politologico come me ma naturalmente anche per le altre discipline ma anche per chi fa un lavoro diverso e altre ispirazioni più che legittime sono esperienze che arricchiscono quindi questa è la mia biografia personale politica grazie a Federico Quadrelli passerei la parola adesso a Gianluca Galletto grazie a voi di avermi invitato e scusate mi sono dovuto trasferire perché stavano nel soggiorno giù e c'era rumore ehm io sono negli Stati Uniti da ormai da 26 anni e sono venuto qui con una borsa con una Fulbright che ho studiato qui a Yale tra l'altro non avevo neanche intenzione di rimanerci perché dovevo a Bruxelles e volevo lavorare per la Commissione Europea dovevo andare in Africa insomma tutto cambiato ehm e però ho fatto comunque ho questa passione politica da quando avevo 15 anni sono impegnato da da tanto tempo tranne una una fase degli ultimi cinque anni prima in cui avevo deciso di disintossicarmi qui negli Stati Uniti c'è un termine che si dice political junkie i junkie sono i i dipendenti i drogati che insomma riescono a disintossicarsi ed è una cosa difficile quelli che sono molto diciamo che la politica è un po' una malattia e mi sta tornando quindi non lo so farò ho degli anticorpi più buoni e ho fatto un'esperienza un po' mista nel senso che la prima parte della mia carriera dove ho studiato per rimanere a New York il modo più semplice per rimanere era lavorare nella finanza quindi ero tra Wall Street per dodici anni dodici anni nel frattempo ho fondato prima l'IDS poi l'Ulivo e poi il PD qui in Nord America sono sempre stato un po' fra i padri fondatori di queste cose e queste attività nel frattempo mi è piaciuto molto il il fatto che Federico sia anche un membro dell'Espede un attivista io faccio la stessa cosa sono stato impegnatissimo a un partito democratico per vari motivi in parte fortunosi e quindi ho partecipato a varie campagne fra cui l'esperienza più intensa per me è stata quella Obama 2008 lavoravo con il direttore della campagna dello Stato di New York e chiaramente non era ma cioè lo sforzo principale era quello che ho imparato lo sforzo organizzativo e di fundraising qui c'è un volontariato estremamente diffuso devo dirvi più che in Europa no più che in Italia in Europa non posso dirlo e anche esiste anche un modo diverso di finanziare le campagne tutti pensano che chi fa una donation alla campagna lo fa perché vuole quella cosa indietro ma se tu dai mille dollari a una campagna che ne spende che ne so 5 milioni non è che ti vengono a dire ci sono dei limiti quindi c'è proprio la volontà anche di dare sostenere un candidato perché ci si crede poi c'è anche il do des che però se viene scoperto poi sei va in galera quindi poi sono cambiato grazie a questo sono finito con l'amministrazione De Blasio ha conosciuto De Blasio nel 2000 e fra l'altro è interessante perché era l'unico che conoscessi conosciano molti leader democratici che avesse una conoscenza abbastanza buona della politica italiana quindi negli anni prima che divenisse sindaco era consigliere comunale poi il pubblicato che ogni tanto quando c'erano elezioni siccome c'erano spesso in Italia c'avevo qualche messaggio ma che ne pensi ma la Lega ma veramente tranquillo quindi ho fatto questa esperienza che per me ed è stato un cambio notevole della mia professione guadagniamo tre volte di più ma sono molto più soddisfatto ora però è un po' una cosa mista nel senso che all'inizio cominciavo a occuparmi di venture capital e di di startup e simile perché io andando al mondo della finanza mi interessava poi sono andato a fare il capo del commercio estero per la città di New York e la città di New York ha una politica industriale abbastanza pesante nel senso che è molto ben definita ed ha un ruolo importantissimo nella città è stata determinante secondo me nella trasformazione di New York in quello che è il secondo hub al mondo di tecnologia e ormai andare a New York a San Francisco non cambia più niente anzi per gli europei è più utile stare qui se si ti fa tech eccetera e questo mi ha insegnato molto e mi ha dato la possibilità di avere tante non solo relazioni con da ministri a sindaci soprattutto chiaramente era più legata allo sviluppo economico urbano ma anche conoscere conoscere tante realtà diverse all'estero e anche approcci a risolvere problemi per cui mi sono specializzato diciamo in questa innovazione urbana e in parte ho fatto l'advisor ad alcuni governi ho aiutato su alcune cose la città di Milano e il Mind Mind Innovation District eccetera e poi sono tornato in un'amministrazione a fare questa cosa che per me è stata la più bella cioè lavorare con diciamo una sorta di braccio destro per tutto ciò che era partnership tecnologiche della New York City Housing Authority è molto lungo però NYCHA è una cosa interessante datemi vi chiedo questo 30 secondi in più perché gli Stati Uniti sono sempre visti come un posto dove ne esiste attenzione al sociale sono grandi puttanali diretto e New York è una delle state più progressiste che ci siano al mondo ok soltanto forse Berlino e Amsterdam sono così non c'è Perigi non c'è nessuno che tenga nell'attenzione che c'è all'equità sociale che poi è una città molto iniqua ma quello è un altro discorso ma l'intenzione c'è NYCHA nasce negli anni 30 e con Roosevelt chiaramente e ospita oggi 450.000 persone cioè una città sono 188.000 appartamenti e c'è uno sforzo finalmente in mano è stata trascurata a partire da Reagan caso strano piccola coincidenza e quindi ha un backlog cioè fa bisogno di capitale per fare diciamo portare tutti gli appartamenti a un buon Stato di 40 miliardi e i numeri qui sono enormi cioè la città di New York ha un budget di 100 miliardi ha un PIL di 900 miliardi cioè vale metà dell'Italia solo la città non le aree metropolitane va beh questo per dirvi che abbiamo iniziato uno sforzo imponente di di vario tipo io mi sono occupato molto da decarbonizzazione perché il 70% delle emissioni in questa città vengono dagli edifici in Europa siamo intorno al 50 quindi detto questo mi chiudo qui la politica è che sono rimasto sempre in contatto mi sono candidato al 2013 con la doppia preferenza diciamo un po' una sorpresina alla fine e sono rimasto in contatto questa volta è stata una cosa un po' per caso ma poi ve la racconto meglio perché mi sono ritorno con i candidati grazie a Gianluca Galletto grazie a tutti e tre per le vostre risposte per aver condiviso le vostre esperienze e mi ricollego proprio a queste vostre esperienze internazionali per iniziare a parlare della comunità che rappresentate e direi di aggiungere un po' di dati per appunto far comprendere i nostri ascoltatori le dimensioni delle comunità che vi candidate appunto a rappresentare allora inizierei appunto da sempre da Andrea Crisanti lei diciamo è candidato a rappresentare tutta la circoscrizione Europa ma è anche il candidato del Partito Democratico di Londra e del Regno Unito e si usa spesso dire che Londra sia la quarta città italiana per dimensione infatti sono almeno duecentocinquantamila i nostri connazionali ufficialmente residenti nella capitale britannica e circa mezzo milione quelli residenti in UK ma si stima che questi numeri possano essere facilmente raddoppiati tenendo conto anche di chi non è iscritto all'AIRE ovviamente parlando del caso di UK le chiederai professore anche una riflessione sulle possibili problematiche portate dalla Brexit e come possono essere appunto tutelati gli interessi degli italiani in un paese che è uscito dalla comunità europea muto è in muto professore sì ecco guardi guardi io inizierei facendo delle riflessioni sulle problematiche e le esigenze più che interessi degli italiani in Inghilterra che poi li accomunano a tutti quanti gli italiani in Europa e penso anche all'estero ma gli italiani hanno una serie di problemi guardi che vanno dall'accesso ai servizi consolari al fisco alle pensioni all'accesso al sistema del servizio sanitario nazionale questo è tra altre cose una delle ragioni per cui esiste questa discrepanza tra iscritti all'AIRE e residenti all'estero non iscritti all'AIRE perché immediatamente quando ci si iscrive all'AIRE di fatto si perde automaticamente l'accesso al servizio sanitario nazionale lo si può riacquistire attraverso tutta una serie di longaggine burocratiche ma di fatto a un italiano all'estero non conviene tantissimo iscriversi all'AIRE questo è una realtà se io devo fare prima quando facevo un certificato al comune di Roma ci mettevo praticamente il tempo di collegarmi e ce l'avevo online se lei chiede un certificato al consolato italiano e che è una cosa semplice per non parlare di un rinnovo del passaporto per non parlare di un atto notorio per non parlare di un titolo di cui pollenza di studio cioè è un percorso a fili spinati cioè ci si mette sei sette mesi ecco io non penso che sia questa una cosa degna di un paese europeo quindi questo sicuramente è una cosa che va risolta però mi permetta un'ulteriore riflessione se lei vede i programmi di tutti i partiti cioè si rendono tutti conto di questa cosa ma anche i programmi dei partiti della passata legislatura cioè erano tutti d'accordo questa è una cosa bipartisana che mi creda non ci vorrebbe nulla risolverla e io mi chiedo ma perché non è stata risolta perché le stesse persone che chiedono i voti oggi sono su questa problematica le hanno chieste le hanno chieste la legislatura passata ecco io invito gli elettori a riflettere su questa cosa c'è bisogno di un cambio totale di prospettiva su questo c'è bisogno di un cambio totale di prospettiva su come vengono gestite i comites se lei va a vedere i bilanci di comites se fanno pena sono 50.000 euro se va bene o a 70.000 quello di Parigi è un'eccezione 300.000 euro ora questi questi organismi dovrebbero preoccuparsi della diffusione della cultura italiana dell'accoglimento degli italiani è da risi giustamente lei ride dell'accoglimento degli italiani e poi aspetti non è finita dovrebbero poi interfacciarsi con il consulato e con le autorità amministrative locali per evidenziare i problemi degli italiani aiutare gli soldi tutto con 50.000 euro all'anno ma questa è una presa in giro degli italiani questo va cambiato va smantellata questa cosa e poi vogliamo parlare del consiglio generale degli italiani all'estero che mi sono documentato su tutti gli atti ci fosse stato un atto in cui e che questo è praticamente l'organo che dovrebbe consigliare il governo e dovrebbe consigliare il Parlamento ci fosse stato un atto che tende a fare una proposta di legge su questa cosa a me mi chiedo ma che fanno questo a mio avviso non si può parlare di risoluzione dei problemi italiani all'estero se non si rivede tutto il problema della rappresentanza e si introducono dei criteri di trasparenza e di metrica ma che senso c'ha avere dei comites se non si sa il livello di soddisfazione dell'utenza che senso c'ha avere i comites se non c'è trasparenza sui budget ma a me mi viene da ridere a vedere questa roba scusate eh ma io sono abituato a tutto un altro livello di trasparenza e di responsabilità ecco questo in poche parole mi scusi che mi sono un attimo accalorato ma obiettivamente mi permetta è una cosa che va affrontata alla radice la radice non so i problemi è la struttura che c'è sta dietro d'accordo anzi professore la ringrazio perché ha reso veramente in modo molto chiaro le problematiche appunto sottese a questi aspetti Federico Quadrelli invece come Crisanti lei si candida a rappresentare ovviamente tutta l'Europa ma in particolare le comunità di Berlino e della Germania Berlino è una delle comunità più in crescita conta infatti circa 25.000 italiani ufficialmente registrati e attira un po' come Londra molti giovani per le possibilità che offre e un discorso particolare va poi fatto allargando alla Germania che nelle rilevazioni ufficiali è il paese che accoglie il maggior numero di italiani in Germania infatti si concentra più di un terzo delle presenze rilevate in Europa nei prossimi anni l'interazione europea speriamo crescerà e quindi gli italiani residenti in Germania e nel resto dell'Europa potrebbero idealmente un giorno trovarsi non più propriamente all'estero ma in uno dei paesi della federazione europea ecco vorrei chiederle qualche riflessione su questa comunità che lei rappresenta e come appunto è stato chiesto al professor Crisanti le dimensioni appunto di questa di questa comunità e gli interessi di questa comunità sì ovviamente concordo con quello che è già stato detto prima il tema dei servizi consolare del comit sono temi di cui sentiamo parlare da tanto tempo e sempre la domanda è ma perché non ci avete messo mano quando potevate avendo quel ruolo e c'è in effetti poi anche qualcuno che su questi temi nel corso del tempo ha costruito un po' il suo percorso è stata magari sono persone che sono state elette e però che cosa hanno fatto bella domanda immagino che poi il tema dell'accountability ritornerà insomma ma ci arriveremo dopo mi permetto di correggere un attimo la questione sui dati perché sono molti di più di 25.000 non so adesso a che cosa si riferisce se solo su iscritti aere ma le presenze degli un mail dati si dice così in Germania cioè che hanno una registrazione hanno preso un domicilio legale a Berlino vanno già verso i 40.000 siamo ufficialmente più di 30 siamo tra 30.000 e 40.000 ufficialmente io quando sono arrivato avevo aperto un osservatorio sugli italiani a Berlino perché da sociologo la prima cosa che mi interessa è quello e quindi vi dico che erano 14.700 e qualcosa 2014 quindi è una città letteralmente in espansione per motivi molto semplici che sono gli stessi motivi che hanno guidato me ad andarci costo della vita estremamente basso servizi molto molto funzionanti penso alla questione della mobilità giusto per fare per dirlo così mobilità ti sposti tranquillamente su una città di una dimensione strabiliante perché è enorme con più di 4 milioni di abitanti ormai dove tu vivi in un contesto che farebbe impallidire Meloni e Salvini perché un terzo della popolazione è straniera quindi avrebbero una sensazione di spaisamento alla fermata dell'autobus senti e vedi il mondo ed è la bellezza di questa città la capacità di essere tollerante inclusiva insomma la città stessa ha investito su questo quindi pensiamo ai temi LGBT che per me sono temi importanti pensiamo alla questione delle donne pensiamo all'integrazione di diverse culture cioè è una città che ti invita a starci ed è il motivo per cui ci sono arrivato è ovvio che la migrazione che caratterizza Berlino e la migrazione più recente non è la stessa che caratterizza le comunità di italiani e italiani che ci sono dagli anni 50 mio nonno è stato un gastarbeiter cioè un lavoratore ospite ha molto ha avuto un'esperienza molto positiva lui quindi me ne ha sempre parlato bene molti altri no perché ovviamente nell'immediato dopo guerra loro hanno vissuto il razzismo pesantemente quindi le esperienze che queste persone hanno raccolto rispetto a quelle generazioni più nuove che sono più sono più educate nel senso che hanno titoli di studio più alti conoscono magari già una seconda lingua che normalmente è l'inglese anche se è maluccio io stesso non è che conoscesse l'inglese benissimo visto che non me l'hanno insegnato a scuola dovevo far da solo quindi arrivi con dei con dei con dei deficit diciamo così che devi in qualche modo col mare il rischio è che si rimanga bloccati all'interno di questi di queste relazioni tra reti di italiani quindi poi viene meno il contatto con no la comunità ospitante il motivo per cui io ho detto no a un certo punto devo imparare il tedesco voglio attivarmi nella comunità tedesca io poi che c'ho della 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 politica mi sono attivato con l'ESPD e quindi sono abbastanza direi ormai integrato peraltro ho preso la cittadinanza tedesca anche quindi per me ho completato il tassello di tutti i diritti perché senza diritti politici la cittadinanza è fondamentale senza quel pezzettino l'integrazione è zoppa e questo è importante anche da ricordare per la nostra politica in Italia le esigenze tradizionali quindi sono già state dette migliorare i servizi consolari investire sulla digitalizzazione ma non basta basate perché non significa che digitalizzare significa poi che tutti siano in grado di utilizzare quei servizi bisogna anche creare le condizioni e qui entrano in gioco i comides per esempio affinché venga fatta un'azione anche pedagogica perché non tutte le generazioni non tutte le persone hanno gli stessi strumenti per poter accedere a quel servizio digitalizzato poi c'è tutta la questione del pensionamento pensioni tassazioni sono cose che interessano non me direttamente ma tanti con nazionali che hanno già lavorato magari venuti dall'Italia con pensioni estremamente misere questo è un tema che mi è stato posto all'attenzione e che devono anche lavorare magari per vivere con quel poco di pensione che hanno ma in Italia questo non è consentito perché devi dimostrare la cessazione del lavoro in Germania per esempio no poi c'è tutta la questione dei diritti politici sociali ed economici tema che per me è molto importante dico solamente l'etichetta salario minimo non esiste non può esistere che in Italia non ci sia una soglia un indicato un salario minimo per dire che quella cifra è dignitosa perché pensare che si possa avere un lavoratore pagata tre euro lorde cinque euro lorde se gli va bene magari pure senza contratti ecco non è accettabile non è accettabile per me è una è una questione veramente fondamentale io mi interpreto così un ponte in qualche modo l'esperienza che io ho fatta in Germania su questo aspetto come sulla formazione per esempio per i giovani che è un po' ovviamente diciamo il mio punto di forza è la formazione duale tedesca è un fiore all'occhiello la possibilità di dare alle ragazze e ai ragazzi che decidono di seguire un percorso professionalizzante di studiare e imparare un mestiere si fa così retribuiti mentre stanno studiando possono fare il cuoco il cameriere il meccatronico l'idraulico l'optometrico l'assistente in banca quello che volete l'infermiere neanche ha bisogno della laurea in Germania capite sono mondi diversi e il mio sforzo nel PD specialmente grazie anche al ruolo nell'SPD e mi taccio è che ho sempre cercato di spiegare al partito guardate che abbiamo tanto da imparare da queste esperienze non significa copiare i modelli significa capire quali strutture quali meccanismi possiamo utilizzare e adattarli al contesto che ci interessa cioè quello italiano secondo me c'è un potenziale enorme Lufthna si dice in tedesco tanta aria verso il cielo e quindi possiamo fare parecchio che non sono solo promesse direi che sono cose molto concrete che si possono realizzare e si realizza anche un pezzettino in più di equità grazie 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 vi volto entrambi esatto adesso infatti stavo giusto passando a Gianluca Galletto che invece si candida a rappresentare tutta la comunità italiana in America settentrionale centrale ma appunto diciamo come ci ha spiegato prima la sua gran parte del suo percorso è avvenuto a New York che anche nell'immaginario italiano è da sempre una meta di migrazione anche a New York si stimano spero di non sbagliare questa volta con i dati come è successo per il caso di Berlino e me ne scuso si stimano a New York 96.000 cittadini italiani e molti altri che sono discendenti di seconda e di terza generazione mentre invece la sua circoscrizione conta più di mezzo milione di italiani ora nel suo caso le chiederei come per gli altri quali sono le esigenze le istanze che vuole rappresentare e in più come questo avviene da fuori dall'Europa in un paese come gli Stati Uniti che comunque hanno una mentalità molto diversa da quella europea e a noi comunque pare da europei forse un capitalismo un po' più accentuato rispetto al nostro e quali sono appunto i possibili rapporti della comunità con l'Unione Europea in un panorama di crescente integrazione allora prima un po' di dati che già hai elencato ma New York oltre ad avere questi 96.000 che sono c'è stata una crescita perché l'emorragia ha visto anche arrivi qui sono un po' più difficili per la distanza e perché qui non c'è c'è bisogno di un visto quindi un po' più complicato altrimenti non so quanti saremo poi c'è una gran massa di persone che non si iscrive all'area nonostante siano lontani io conosco persone ancora che magari sono iscritte ma per farsi che ne sono delle cure particolari vanno in Italia perché non è andata dal loro dentista e capisco che qui il sistema sanitario non voglio aprire sta parentesi ma è un po' diverso da quello che sembra in Italia molto meglio però comunque è peggio di quelli dei sistemi sanitari pubblici di paesi avanzati in generale quindi cioè dico come accesso e non come qualità esiste poi qui c'è un problema importante che esiste un po' in altri paesi europei ma qua è estremamente grande cioè gli Stati Uniti hanno vissuto un'immigrazione massiccia enorme per cui gli italoamericani sono milioni e i centri dove ce ne sono di più sono gli stati di New York New Jersey insomma il nord est soprattutto un po' Chicago e hanno una storia che inizia a fine dell'ottocento quindi questa cosa si interseca un po' con la comunità nuova ma anche qui c'è stato un forte flusso diciamo della migrazione tradizionale che è finito nei primi anni 70 non di molto tanto diverso quello d'Europa e anche qui diciamo le esigenze sono un po' diverse sono due grandi mondi che stanno in parte un pochino intersecandosi in parte c'è un'evoluzione dovuta all'età che viviamo non viviamo all'infinito gente muore e quindi su questo che succede che a volte c'è un cortocircuito fra le nuove e le vecchie generazioni che non si non si intendono e dicono a me non me ne frega niente di questa storia non ne voglio più sentire parlare di questa storia delle pensioni le cose io no io voglio trovare un lavoro faccio il ricercatore la altre si sono dei fighetti e non sanno niente noi siamo dei sopravvissuti siamo fatti un mazzo così siamo stati trattati abbastanza male perché negli Stati Uniti adesso gli italiani stanno hanno raggiunto anche livelli altissimi diventare anche presidente della Repubblica ormai però vi consiglio fra l'altro guardate questo documentario in quattro parti bellissimo di PBS che è la televisione non privata che non è dello Stato ma c'è dei volontari dei cittadini che padano le quote si chiama PBS e il documentario si chiama Italian Americans ed è con la narrazione di Stanley Tucci vi assicuro che si impara tanto ed è una cosa che vorrei far vedere nelle scuole italiane perché nelle scuole italiane in Italia devono capire soprattutto quelli che stanno a destra che gli immigrati siamo stati uguali in tante cose a quelli che arrivano in Italia perché non è che qua arrivavano tutti col visto bello già PhD arrivava qua gente anche disperata che alla fine è stata trattata malissimo e si è imposta dico ma perché dobbiamo rifare la stessa roba noi abbiamo imparato non sulla nostra pelle l'altra cosa è che mi è piaciuta la circolarità di cui parlava anche Federico cioè il fatto di essere aperti in un'organità estremamente tollerante molto sì perciò dico Berlino la vedo simile io ho lavorato una partnership su scambio di aziende tecnologiche con Berlino però che successe tra parentesi che all'inizio la città era poco propensa a livello di tutta la città perché diceva Berlino a livello di tech che c'ha c'è poco quindi non erano molto interessati mentre che siamo riusciti a farla solo con Brooklyn e infatti era con Berlin Partners che si è stata fatta questa cosa vabbè insomma quindi ho avuto modo di conoscere più di un tempo sì 33% delle persone sono nate all'estero esiste probabilmente una stima è di 600.000 illegali che vivono a New York che a cui nessuno chiede un documento perché possono andare da qualsiasi parte nessuno anche se vanno a pronto soccorso nessuno richiederà il suo loro status di migrazione perché è vietato esiste addirittura una hotline un numero verde per gli illegali che il comune attivato anni fa con De Blasio per essere aiutati soprattutto quando c'era Trump perché Trump ha squinzagliato agenti federali che venivano a fare il raid anche nelle scuole a un certo punto la città ha schierato la polizia in alcune scuole per fare in modo che chi venisse dal governo perché il governo federale controlla la forza come si dice le forze dell'ordine che guardano i confini si chiama border patrol che avessero il mandato giusto perché capitato sono stati dei casi che entravano nelle scuole prendere il bambino figlio illegale per andare a fregare con i genitori vabbè questo è per dire che è una città che mi ha insegnato tutte queste cose e mi sono un po' perso anche io vorrei far da ponte perché ho lavorato appunto ho avuto modo di capire queste cose che succedono come si affrontano problemi di risoluzione di problemi urbani soprattutto perché l'ottanta per cento della popolazione vive in città l'ottanta per cento del PIL mondiale ha fatto nelle città l'ottanta per cento delle emissioni sono nelle città quindi se dobbiamo risolvere problemi non mi so bene e la cosa che mi ha insegnato che ho imparato meglio e che vorrei che in Italia potesse essere meglio usata è le public private partnership che qua funzionano abbastanza bene devo dire gli UK sono molto bravi forse anche più bravi degli americani e l'ultima cosa consolare le istanze le istanze sono simili a quelle che ha detto Pisanti non è che sono molto diverse chiaramente esistono due cose come dicevo prima per la vecchia generazione che sono importanti che sono alcune hanno le pensioni misere alcune non riescono a fare integrazione c'è una massa notevole di gente che ha perso la cittadinanza perché l'Italia non consentiva di avere la doppia cittadinanza esistono italiani italiani quanto me anche se stanno qui da 40 anni 50 che non sono cittadini e non possono riacquisirla e questa non si è mai fatto i consolati la stessa cosa il personale è eccellente ma ci hanno quattro soldi non possono io la stessa cosa per rinnovare il passaporto ci ho messo mesi ma perché perché non c'è personale per assumerlo in loco come fa il governo il Department of International Trade del UK come fanno i dolandesi i tedeschi non lo so bene perché non so bene come sono organizzati a questo tipo di cosa ma assumono persone in loco con gli stipendi locali non con gli stipendi italiani chi viene a lavorare qua c'è nessuno e poi non si possono assumere degli stagere perché devono stare per forza attraverso il programma del ministero che gli piazza poi nei pari posti c'è una roba lunghissima e qua c'è tante persone giovani che farebbero farebbero carte false per fare sei mesi di internship quindi questo ha cambiato ma come si fa agli italiani questa cosa frega pochissimo perché e poi ai politici pur perché non votano cioè chi nel senso che non chi siamo pochi quelli che votano queste cose quindi secondo me c'è un problema doppio due gap due barriere sono una è che questa il motivo appunto per cui eh all'Italia non interessa perché il grosso italiano non vive queste cose sulla propria pelle quindi non gli entrega niente eh dall'altra c'è eh una difficoltà a fare a fare una narrazione di questo enorme che è dovuta secondo me molto al tipo di eletti all'estero e c'è un problema strutturale che il numero sono pochi ma c'è anche un problema di secondo me di tipo di personalità sono persone finora a parte un po' in Europa ma abbiamo avuto sempre persone sono molto distaccate dalle italiane sono in quelle di cui parlava Federico comunità molto un po' non dico chiuse ma molto italocentri che fanno sempre cose italiane poco integrate quindi come bisogno secondo me c'è bisogno di persone come i crisanti cioè hai bisogno di persone che abbiano una no ma anche una grande popolarità la popolarità serve a far sfondare un un muro e a dire a far mettere sul piatto questo è un problema serio e questo è secondo me grazie guarda perché per la prima volta in Italia si incomincia a parlare degli italiani all'estero guardi ogni volta che sono andato a un programma e chiedono ma scusi ma lei dov'è candidato? io dico guardi sono candidato a circoscrizione estera e c'è sempre una sorpresa capito? come se gli italiani all'estero non votassero immaginassero sono in grado di percepire quali sono i problemi ecco quindi questo in parte è vero no un'ultima cosa il salario minimo anche qui c'è una cosa interessante che viene fatta la città di New York e tutti i contratti pubblici che sono tanti usa un altro criterio usa il living wage che è più alto il salario minimo cioè va a vedere per zona anche proprio a livello di quartiere perché cambia qual è il doveri siedi quello che diciamo consente un salario che insomma dignitoso non solo se volete o altro devo parlare con gli altri grazie infinite anche a Gianluca Galletto allora vi farei un'ultima domanda e mi avvierai così a concludere e vi chiederai appunto una piccola riflessione su cosa per voi significa l'attivismo politico transnazionale concretamente e come si può strutturare verso il futuro anche grazie alle tecnologie la partecipazione sempre più attiva della comunità italiana all'estero vi chiederai anche questo che è proprio una questione sentendo i vostri i vostri interventi che mi è mi è sorta in questo momento gli italiani all'estero partecipano attivamente a quello che può succedere in Italia e quindi sentono questo desiderio di comunque attraverso il loro voto di influire sulla politica del loro stato d'origine chi vuole iniziare posso magari iniziare io guarda e allora due chiaramente questa è una domanda un po' articolata su vari fronti guarda incomincio dall'ultima parte cioè gli italiani all'estero sono interessati a quello che è succeduto in Italia ma io penso le ultime generazioni sicuramente perché molti hanno lasciato l'Italia da poco molti sono in transito all'estero e magari tornano in Italia per ragioni di lavoro guardi è molto frequente avere degli italiani che magari stanno sei mesi a Londra poi tornano in Italia vengono richiamati e poi magari si fanno tre quattro mesi in Germania o così via ecco la tipologia dell'italiano all'estero è completamente cambiata non è più l'italiano delle prime generazioni che va lì si insedia fa famiglia rimane là e molto spesso sono studenti molto spesso sono ricercatori professionisti imprenditori ecco che comunque hanno una una grossa mobilità quindi io penso sì sono interessati a quello che succede in Italia e io penso che la loro aspirazione sia quella di trovare un'Italia migliore di quella che hanno lasciato su questo penso sono tutti d'accordo perché è uno dei problemi che c'ha l'Italia veramente la mancanza di opportunità sia di studio che di lavoro non dimentichiamoci che in Italia l'ascensore sociale è bloccato da 30 anni e allora che cosa succede si dividono in due quelli che vanno all'estero perché hanno la forza la capacità la volontà anche la stabilità emotiva di andare all'estero ci sono altri che invece rimangono in Italia e questi poi popolano molto spesso le file del populismo perché queste persone sono non hanno più vedono costantemente sotto i loro occhi che non hanno opportunità non hanno opportunità di studiare non hanno opportunità di progressione di carriera percepiscono per la prima volta che nel loro nei loro figli potranno colmare il gap che li divide in termini di reddito in termini di opportunità in termini di qualità della vita da privilegiati ecco questo è il vero problema di Italia è questo che anima il populismo io penso che è quello che possono dare gli italiani all'estero e quando ritornano in Italia è combattere perché a costruire un paese che sia solidale in cui animato da spiriti di equità in cui allo stesso tempo dia a tutti quanti l'opportunità di prosperare ecco io penso che noi ci dobbiamo battere per questo perché queste sono realtà che poi abbiamo visto dappertutto l'abbiamo vista in America ti ringrazio della tua testimonianza di New York io sono stato anche a New York un periodo anche in Germania anche in Svizzera anche in Francia ecco questa è la testimonianza che dobbiamo portare poi per quanto riguarda cosa fa un candidato all'estero guarda deve affrontare un problema gigantesco perché chiaramente l'elettorato è fragmentato e quindi c'è un problema sia di raggiungere l'elettorato sia di mantenere la comunicazione con l'elettorato e questo a mio avviso crea anche un problema di disparità che di inequità tra i vari candidati perché di fatto si avvantaggiano candidati che hanno più risorse economiche e questo è fondamentalmente sbagliato è ingiusto è ingiusto è una porcata scusatemi se lo dico non è corretto poi noi per chiaramente adesso abbiamo fatto tantissime iniziative tra cui una che io poi porterò avanti anche in seguito è quella di consentire agli elettori di contattare direttamente la campagna e il candidato quindi praticamente noi adesso abbiamo fatto un QR un codice chiunque lo scannerizza può direttamente avere accesso ai numeri e all'email all'sms sia della campagna che miei quindi noi vogliamo mantenere questo contatto con l'elettorato perché dobbiamo il nostro obiettivo è quello di capire le esigenze e quello di mantenerci in contatto anche dopo la campagna perché un conto è prendersi voti adesso l'altra cosa è mantenere quello che si è promesso ecco io penso che questa sia la differenza che c'è tra un opportunista e una persona che crede nella nei valori della trasparenza e dell'integrità ecco questo questo sicuramente è quello che vogliamo fare ecco sulla cosa su cui ci siamo impegnati cioè raggiungere quanti più elettori possibili e impegnarci anche dopo l'elezione qui posso dire qualcosa io la cosa qui un po' diverso perché paradossalmente eh non so sono gli italiani che sono il più recente arrivo a parte che non guardano neanche la tv ma guardano neanche ma non sanno meno dell'Italia cioè sono meno presenti quello che succede quello che succede dell'Italia reggono pochi giornali invece sono quelli più belli la vecchia generazione che guarda il telegiornale sanno molte più cose di noi perché hanno questo senso di appartenenza molto forte soprattutto per chi è arrivato tanti anni fa l'ho visto molto anche soprattutto fra i canadesi cioè i canadesi gli italiani che sono in Canada il Canada è un paese interessante perché per esempio non ha un sistema sanitario che significa quello europeo ed ha la comunità italiana è molto più è più integrata con il resto del Canada è più anche più cioè non ha questi strati che iniziano dall'ottocento è più progressista tendenzialmente vota di più anche non è un caso che gli eletti sono quasi sempre da Toronto e c'è una partecipazione un po' maggiore diciamo al voto e come vedete a causa di questa frammentazione qui io l'ultima volta sono stato a Mexico City e a Vancouver sono da Vancouver in giornata sono nove ore di volo sono tornato sono due ore di no di sonno ma è enorme quindi le esigenze sono anche molto diverse in Mexico City ma America Centrale un po' di Carabio ci sono italiani chiaramente hanno esigenze diverse anche una cultura un po' diversa e comunque non li puoi sono pochi ma non è che li puoi trascurare non è che puoi dire vabbè ma sono quattro gatti quindi non sono nessuno sono quattro gatti ma sono ci sono problemi anche seri di povertà in paesi Centro America italiani scusami poi vai ho tolto del tempo io poi ti dico due cose trasnazionali no ma concludi eh ah allora sì hai ragione allora io sono convintissimo della dell'impegno trasnazionale addirittura anche fra due continenti in quanto sono convintissimo del fatto che Stati Uniti e Canada particolare quindi eh e l'Europa abbiano molti di cose in comune quanto si pensa sia qui che lì purtroppo le narrazioni essendo lontane anche qui ci sono distorsioni di percezione eh notevoli a volte e la stessa cosa accade in Europa e e quindi soltanto attraverso un impieno trasnazionale che è chiaramente fra due continenti più complicato si ma in Europa si può e si deve fare perché è solo così che hai anche un approccio transnazionale a quelli che sono le iniziative i disegni di legge quello che sia e che eh altrimenti anche quella diventa solamente frammentata una negoziazione fra paesi fra rappresentanze dei gruppi parlamentari parlamentari europei fra i ministri del consiglio europeo e e quindi io lo trovo eccellente c'è un partito che non è adesso è sta diciamo più legato a Italia Viva adesso a livello italiano ma a me io mi interessa la la eh quello che sta facendo il partito democratico europeo che è un partito transnazionale vi sono venuto c'è stata una delegazione conosco Sandro Gozzi tanti anni e quindi lui è uno degli animatori e e trovo una cosa del genere andrebbe fatta eh non solo da loro ma eh in maniera un po' più generalizzata eh concludo allora grazie ehm beh è stato detto parecchio allora intanto credo di essere un po' un prototipo di attivista politico transnazionale nel senso che eh io mi sono trovato a dover fare un'assemblea nazionale a Roma saltare all'assemblea regionale della SPD e di qua cinquantamila campagne elettorali in Toscana le comunali e poi il e poi Berlino e e ovviamente è è un arricchimento notevole è una prospettiva estremamente diversa perché io vedo il buono diciamo il positivo e il meno positivo del PD il positivo e il meno positivo della SPD quindi cerco da una parte all'altra ho sempre cercato e interpretato questo ruolo di eh tanto di creare contatti perché non si parlano cioè le strutture non si parlano assurdamente e quindi cambiare un paradigma che deve essere il paradigma di come i partiti interpretano l'attivismo e il cambiamento del paradigma di come la politica interpreta l'italiano all'estero per tutto quello che abbiamo già detto risorsa strategia anche dal punto di vista opportunistico eh se si guarda quali sono le relazioni commerciali che ci sono fra nelle industrie tra Germania e Italia diventa un po' stupido non investire laddove tu hai delle comunità molto radicate molto attive che anche in ruoli di potere nel senso elettivo intendo ehm sono interlocutori istituzionali banalmente anche solo fare un accordo di partnership o uno scambio eh tra comuni per andarsi a conoscere per creare delle opportunità sul turismo per esempio eh sfruttare le infrastrutture la connessione low cost che connette Berlino con Pisa cioè serve un attimo di visione e uno dei problemi più grossi credo dell'Italia anche a livello politico è spesso il provincialismo lo dico senza dove non voglio esatto non voglio offendere nessuno ma è questa incapacità di guardare un po' oltre ma neanche più di tanto è un pezzettino in avanti e per questo mi sono sempre visto in questa posizione di 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 interlocutore di creatore di punti di relazioni perché è quello più che posso dare in quanto italiano all'estero nel bene e nel male ho un'esperienza che quelli che stanno in Italia non hanno e quindi un blick alla triesca cioè una una prospettiva sulle cose che loro necessariamente non possono avere perché non hanno vissuto quel tipo di esperienza poi ci aggiungi che io sono proprio uno che il precariato se l'è ce l'è stampato sulla pelle per tutte le le per origine sociale per situazione congiuntura economica finanziaria fortunatissima al 2011 cioè io me le sono fatte tutte le crisi proprio una dentro l'altra la mia è la generazione più sfigata da questo punto di vista però abbiamo anche tante energie e soprattutto determinazione per dire che non ci rassegniamo e ci proviamo adesso abbiamo questa opportunità io ti dico vi dico la politica la interpreto un po' veberianamente come che sarebbe da dirsi non solo una questione di professione perché io sono assolutamente convinto che sia proprio una cosa che bisogna saperla fare cioè non ci puoi capitare per caso e tanto così non cioè devi anche avere una preparazione cioè la cultura politica non si non cade dal pero cioè bisogna che ci sia dietro un'esperienza e dall'altra è vocazione il significato doppio della parola tedesca è questo professione e vocazione quindi bisogna anche ovviamente mettere in conto che è un sacrificio che si fa e il sacrificio è enorme per chi deve fare incontri in distanze così enormi per me lo è dal punto di vista economico naturalmente è ovvio che non accederò a determinare non andrò a fare determinate azioni che hanno dei costi molto elevati io faccio quello che ho imparato a fare e concludo il porta a porta per esempio e lo faccio veramente cioè alcuni mi hanno guardato dicendo ma che dici non puoi farlo sì è vero oggi ho fatto con il contrapassi ho guardato da stamattina al primo pomeriggio quattordici mila ottocento passi e mi sono fatto un pezzettino di quartiere di Berlino e ho parlato bussato alla porta suonato dal campanello e mi sono presentato buongiorno sono Federico Quadrelli candidato al Parlamento Italiano ho un flyer lo vuole? sì uno poverino gli è capitato che l'ho svegliato era troppo presto e ho detto mi sono giocato a un voto e invece mi ha fatto un bel post di ringraziamento quella è stata la mia se un messaggio arriva poi prenderò dieci cento mille preferenze sarà indifferente ovvio che prevenirei passare e quindi avere sufficienti preferenze ma è la costruzione di quelle relazioni e la creazione di una comunità l'ho fatto da segretario di circolo ci ho approvato nel mio ruolo di attivista transnazionale e lo voglio fare come candidato e poi se ho la fortuna di essere eletto fare quello che dicevamo cioè tenerli quei contatti ci sono tante modalità adesso che possiamo usare lo zoom le connessioni alla tedesca si fanno le burger piuttosto che i burger buro cioè luoghi in cui tu sai che il candidato è reperibile perché ha un ufficio cioè dei contatti che tu costruisci è vero che una circoscrizione così grande che va letteralmente da un capo all'altro del continente non è la stessa cosa di essere in provincia di Lucca in provincia di Pisa e via dicendo quindi servono sacrificio mettere in conto che non dormirai spesso molto poche ore alla notte però io ho la soddisfazione cioè è una cosa che faccio proprio perché sento che è giusto farla per dare un minimo di contributo un pezzettino a fare in modo che la società sia leggermente più giusta un po' più equa guarda io che ho fatto campagne in Puglia eccetera quindi la cosa che mi ha sconvolto infatti è che qui porta a porta è una cosa fondamentale io ho fatto una marea con me quando c'era un'altra campagna siamo andati anche a fare cose del genere c'era gente che faceva il managing director di Morgan Stanley cioè non è che ognuno si dice ah io queste robe non le faccio e invece campagna in Italia questa cosa ormai è morta è morta con la prima repubblica perché mi ricordo che un po' si faceva insomma del ragazzino il labor in Inghilterra ancora porta i direttori a votare insieme li conosce uno a uno cioè è una cosa incredibile questa è completamente in Italia ma io penso che proprio sia dovuto il fatto che c'è proprio c'è proprio si è creato un distacco tra partiti tradizionali e elettore cioè non si conoscono più chi ti vota capito questo è veramente secondo me è un vero peccato proprio ma anche vuoi parlare dei professori la politica è una professione quando parla io sempre dicevo non voglio un professionista della politica voglio un politico professionale cioè è caduta secondo me la professionalità nel senso di il partito ha un'organizzazione che deve fare varie cose tra cui anche vincere un'elezione che forse è la più importante però non solo per farlo deve funzionare bene per funzionare bene deve avere un approccio anche professionale diciamo alle cose fra cui dire come io andrò da raggiungere l'elettore come ci parlo che gli dico come lo porto a votare tutto è rimasto tv 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 i vertici esatto questo è vero vabbè ho fiducia nei giovani come si dice volevo ringraziare tutti e soprattutto anche per questa chiusura del casa per casa strada per strada che io personalmente approvo e penso sia lo strumento giusto per collegare e far capire soprattutto all'elettore chi va a votare chi va poi a rappresentarlo quindi appunto vi ringrazio ancora per aver partecipato al nostro podcast e per averci parlato di questi argomenti così importanti per i nostri ascoltatori italiani residenti all'estero vi invitiamo quindi di assicurarvi di essere iscritti all'Aire e di votare appunto per le elezioni del 25 settembre anche perché mi raccomando c'è questa coalizione di destra da fermare qui abbiamo avuto questi tre candidati appunto che siamo ben lieti di supportare e vi faccio il mio più grande in bocca al lupo grazie grazie arrivederci grazie 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 grazie